e siamo arrivati macca poche ore all'inizio di Toscana in bocca stiamo già preparando e affilando i coltelli per cui giovedì 30, venerdì 1, saluto 2, domenica 3 dalle 11 la mattina, ahimè fino alle 11 la sera aspettiamo, ci sono 80 piatti da degustare va bene? Ciao e aspetto